buongiorno qui sono le 9 35 mentre già lì vi state mangiando la qualsiasi per pranzo vero allora ecco qui la situazione il gommone è ritornato nuovamente qui nel fiume a mare e ho scelto i bidoni da i serbatoi da portarmi dietro per il resto della traversata questi sono i flosci quelli della pennella e flippo ve li faccio vedere bene fatti esclusivamente per la traversata sono in commercio ma sono dei serbatoi molto particolari eccellenti soprattutto questi grandi sono veramente eccellenti li abbiamo valentine col suo collaboratore e io adesso faccio carburante rimettiamo i serbatoi a bordo non tutti ormai le tratte sono non superano le 800 miglia quindi comunque in linea di massima il carburante a bordo è sicuramente molto molto bene ho ricambiato nuovamente le eliche ho rimontato le 22 e mezzo ho tolto le 21 e vi volevo semplicemente aggiornare che io mi sto preparando in attesa che il tempo mi molli per proseguire verso i caraibi dove è prevista la prossima sosta è una tappa di circa 700 700 rotti miglia e quindi insomma adesso facciamo il carico ecco qui